Demeo con Dieresi Demira trascorso un soggiorno incredibile a Venezia e poiché ha partecipato al Festival del Cinema, una delle tendenze forti degli anni 50, non è venuta da sola ed è tornata con tutto oltre a vincere l'importante premio di migliore attrice internazionale. Virgola nell'ambito dei premi Kineo, ma la verità è che l'artista non è una che sta ferma e ora ha trovato un nuovo hobby che le permette di esplorare ancora di più, ballare. È così che la modella ha deliziato i suoi oltre 16 milioni di follower su Instagram, traboccando di sensualità e di una tecnica straordinaria alla perfezione. È chiaro che la danza richiede molta precisione, quindi Demeo con Dieresi Demira non ha osato da sola, ma si è affidata alla guida del ballerino e coreografo Onur Alp, che ha vinto il premio come miglior ballerino turco di basciata. Due accademie di danza professionali. Nel video potete vederla con il viso pulito, indossando un top nero e una lunga gonna a tubino, mentre inizia a fare una serie di passi super precisi con il coreografo che la guida sempre, e come riescono a fornire una grande performance. Ci vuole l'alchimia della passione per entrare nel clima sexy e caldo della basciata. La clip ha superato il mezzo milione di visualizzazioni poco dopo essere stata caricata. Un altro ballo. Anche se non è l'unica. Demeo è passata anche al reggaeton, uno dei generi latini più diffusi, e sta già guardando negli occhi un'altra ballerina. Parte 1, l'esperienza del Festival del Cinema di Venezia di Demeo con Dieresi Demir. La partecipazione di Demeo con Dieresi Demir al Festival del Cinema di Venezia dimostra che è un'attrice famosa a livello internazionale. Questa esperienza potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua carriera. Parte 2, interesse per la danza. L'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza riflette la ricerca dell'artista di esprimersi non solo come attrice ma anche come artista. La danza serve come mezzo di espressione emotiva. Parte 3, formazione sulla danza. Il lavoro di Demeo con Dieresi Demir con la migliore ballerina e coreografa di basciata della Turchia Onur Alp riflette la sua serietà e professionalità nei confronti della danza. Il fatto che abbia migliorato le sue capacità di ballo attraverso la formazione riflette il desiderio dell'artista di rinnovarsi costantemente. Parte 4, espressione emotiva. Si afferma che la danza è un mezzo di espressione emotiva per Demeo con Dieresi Demir. Ciò dimostra che l'artista si avvicina emotivamente alle performance di danza e stabilisce una connessione emotiva con il pubblico. Capitolo 5, basciata e passione. Si sottolinea che la danza basciata menzionata nel testo è di tipo passionale e piccante. Ciò dimostra che Demeo con Dieresi Demir ha stabilito un legame appassionato con la sua danza ed è entrata nell'atmosfera di questo genere. Capitolo 6, espressione visiva della danza. Condividere le performance di danza di Demeo con Dieresi Demir sui social media dimostra che l'artista ha una vasta base di fan e ha l'opportunità di mostrare il suo talento nella danza a un vasto pubblico. Parte 7, transizione al reggaeton. Si afferma che l'artista è interessato alla danza reggaeton. Ciò dimostra la diversità e la flessibilità di Demeo con Dieresi Demir nella danza. Capitolo 8, sviluppo artistico. L'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza dimostra che continua il suo sviluppo artistico e non è solo un aspetto della sua carriera. Capitolo 9, social media e base di follower. È da notare che i video di danza di Demeo con Dieresi Demir hanno attirato grande attenzione sui social media e il suo numero di follower è aumentato. Ciò indica che l'artista sta portando la sua arte a un pubblico più ampio. Capitolo 10, potenziale futuro. Il testo implica che l'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza indica un potenziale di carriera futura. Possiamo aspettarci altre sorprese e successi sulla carriera dell'artista. Capitolo 11, arte ed espressione. L'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza riflette la sua ricerca di esplorare diversi aspetti dell'arte. Oltre ad essere riconosciuta come attrice, il suo desiderio di esprimersi in modo diverso attraverso la danza sottolinea la versatilità dell'arte. Capitolo 12, ricchezza emotiva. Il testo sottolinea che le performance di danza di Demeo con Dieresi Demir portano ricchezza emotiva. Ciò dimostra che la danza è più di una semplice attività fisica, è un'esperienza interiore. Capitolo 13, fiducia e coraggio. L'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza riflette la sua capacità di esprimere fiducia in se stessa e coraggio. Ballare può essere un segno di fiducia che deriva dall'esperienza di essere sul palco e davanti alle telecamere. Capitolo 14, arte e società. L'interesse dell'artista per la danza riflette anche il fatto che l'arte è una forza sociale. La danza ha il potenziale per unire le comunità e aiutare le persone a connettersi e emotivamente. Capitolo 15, interazione culturale. L'interesse per i generi di danza come la basciata e il regaiton riflette l'interazione culturale. Questi generi emergono in aree in cui culture e musiche diverse si incontrano. Capitolo 16, i limiti della creatività e dell'arte. Demeo con Dieresi Demir ha l'opportunità di espandere i confini dell'arte con il suo interesse per la danza. La combinazione di recitazione e danza può aprire nuove ed entusiasmanti strade alla creatività. Capitolo 17, arte e guarigione. Più che una semplice mezzo di espressione artistica, la danza ha il potenziale per fornire guarigione emotiva e rilassamento. Demeo con Dieresi Demir può sperimentare questi effetti terapeutici della danza. Capitolo 18, il linguaggio universale dell'arte. Il testo sottolinea che l'arte è un linguaggio universale. La danza è una forma d'arte che trascende i confini culturali e unisce le persone. Capitolo 19, carriera e passione. L'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza riflette una passione personale così come la sua carriera. Il desiderio dell'artista di fare il suo lavoro con amore e di continuare il suo sviluppo personale dimostra che la sua carriera è più di un semplice lavoro. Capitolo 20, l'infinita scoperta dell'arte. In conclusione, l'interesse di Demeo con Dieresi Demir per la danza dimostra che l'arte è un processo infinito di scoperta e apprendimento. L'arte è un'opportunità per le persone di esprimersi, scoprire la propria ricchezza emotiva e crescere continuamente. L'arte è un'opportunità per le persone di esprimersi, scoperta di esprimersi, scoperta di esprimersi, scoperta di esprimersi. L'arte è un'opportunità per le persone di esprimersi. L'arte è un'opportunità per le persone di esprimersi, scoperta di esprimersi, scoperta di esprimersi. L'arte è un'opportunità per le persone di esprimersi, scoperta di esprimersi, scoperta di esprimersi, scoperta di esprimersi, scoperta di esprimersi. L'arte è un'opportunità per le persone di esprimersi.